Sei proprio un duro, eh? Ma ora basta chiacchiere. Finiamola qui! Lo senti, vero? C'è qualcuno che ti aspetta. Non ho tempo per queste stronzate. Fuori dai piedi! Non ho tempo per queste stronzate. Non ho tempo per queste stronzate. Non ho tempo per queste stronzate. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.